Ragazzi, guardate tutti insieme questa scena alternativa di Fight and Rage, visto che io ho un debole per i picchiaduro a scorrimento e sono il re dei picchiaduro. Guardate cos'è successo al nostro Minotauro, al nostro Riccardo. È sdraiato per terra. Vediamo se qualcuno cerca di soccorrerlo e di portarlo in un luogo sicuro. Ecco, l'hanno portato in un luogo sicuro, ma vediamo che cosa faranno. Ora inizia questa lunga chiacchierata. Ecco, Riccardo si sveglia. Ricordatevi che alcuni umani sono sopravvissuti in questo gioco. In questo video vi farò vedere solo la scena alternativa di Fight and Rage. Ma nel prossimo video vi farò vedere il livello alternativo, ve lo prometto. Vi sto ringrazio a Iris. Non si può star perdere tempo a chiacchierare inutilmente. Dobbiamo entrare in azione e fare qualsiasi cosa, visto che questo è un picchiaduro a scorrimento. Ah, c'è la decisione. Dovevamo decidere. E infatti abbiamo deciso. Siamo andati da Iris. Avete visto in mano la chiave inglese? Allora andiamo. Guardate che cosa succede. Succede che ci fa salire su, sul camion. E siamo pronti per fare un giretto. Bene, io ora vi saluto. Iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Ciao a tutti. Vi aspetto nel prossimo video con il livello alternativo. Vi aspetto nel prossimo video con il livello alternativo.